Salve, sono Leda Rossi e frequento la scuola media della Salle a Benevento e l'evento di oggi è stato molto bello perché ho imparato vere cose, è stato molto formativo e ho presentato un piccolo codice, una specie di video nel linguaggio scratch dove ho spiegato chi è stata la prima donna scienziata, ho detto qualcosa su Ada Byron e su Babi. Mi è piaciuto molto questo evento e secondo me dovrebbero partecipare anche i bambini più piccoli, quelli delle scuole elementari.